Merita sicuramente un video questo bellissimo set di quattro shell, quattro conchiglie per testine con attacco EIA. Abbiamo rispettivamente un modello in carbonio, due modelli in grafite di diverso peso ed infine uno shell in legno di noce. Partiamo da quello in carbonio che è quello più importante. Lo shell è realizzato al 100% in pura fibra di carbonio, da non confondersi con prodotti realizzati con grafite mista. Lo shell in carbonio viene realizzato per stampo da una delle più note aziende di biciclette in carbonio in Italia. Attacco EIA, dorato, made in Italy, placato in oro 24k reali, con un grano laterale che permette la regolazione dell'azimuth dello shell e questa è una caratteristica che vale per tutti i quattro modelli. Un lift per dito realizzato in ottone e poi placato in oro 24k. La seconda testina è in grafite, 18 grammi. La grafite HDG è il miglior materiale per lo smorzamento delle vibrazioni, sempre connettore contatti dorati, fili e clips. La sua struttura isotropica permette una dissipazione delle vibrazioni in tutte le direzioni e possiamo garantire che le differenze sono macroscopiche in termini di resa del vostro impianto. Un altro shell è quello in grafite da 17, che ormai intorno alla versione MK2, rappresenta la massima espressione nella realizzazione di uno shell. Ogni elemento di questo shell è realizzato in Italia, sono tutti realizzati in Italia. Le caratteristiche sono a livelli dello stato dell'arte. Lo shell in grafite esostatica HDG ad alta densità, con colare posteriore in alluminio, con regolazione del VTA e brugola di regolazione. Infine abbiamo quella in legno, in legno di noce nazionale, realizzato con fresa e controllo numerico, sempre connettore con contatti dorati oro 24k reali, fili e clips. Anche il connettore E è realizzato in Italia con doppio trattamento di placature e nono. Lift per il dito in ottone, placato oro.